Prima di iniziare il video vi ricordo di supportarmi con un like, iscrivervi al canale e più che altro spronarmi a portarvi altri video di Shadowverse se siete interessati. Attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Salva tutti, membri di Pokémon Unita, io sono Emonet. Questo video non era in programma, però a tradimento hanno fatto uscire spoiler sulla nuova espansione di Shadowverse, che sarà Dawnbrick Night Edge, basata un po' sul contrasto luce-ombra che si abbina bene alla nuova meccanica scelta. Ma non è come la scelta che c'è per esempio in Hearthstone, che è quella di scegli tra diversi effetti, per esempio fatti armatura, pesca o dai attacco, no. Questa scelta sarà tra l'aggiungere due carte diverse in mano, quindi sarà sempre un card draw. E secondo me questa meccanica soprattutto si sposa bene nei draft, perché nei draft avete sempre bisogno di un card draw. E addirittura un card draw che varia, ovvero che può avere effetti diversi a seconda della situazione, secondo me è molto molto interessante. Andiamo subito a vedere le carte. C'è la ristampa di Vania, ovvero ce l'hanno ritirata fuori a caso. Questa volta non è più una 2-2 costo 2, ma è una 3-6 costo 6. Quindi statistiche molto basse, perché io a costo 6 voglio vedere una 5-6, una 6-5, eccetera eccetera. Però l'effetto in parte giustifica queste statistiche qua orribili. Innanzitutto a ostentazione infligge due danni a entrambi i leader. E per un bloodcraft infliggere danni sia a se stessi che agli avversari, che all'avversario più che altro, è veramente molto buono. Poi evoca un pipistrallo di foresta, quindi a costo 6 abbiamo una 4-7 in un certo senso. E in più possiamo scegliere se aggiungere alla mano Vania Regina Cortese o Vania Regina del Sangue. Ora andiamo a vedere queste due carte e ne parliamo. Inoltre la carta scelta la potremo giocare se abbiamo almeno 6 playpoint e 6 vendette attiva. Allora, questo vuol dire che chiaramente non possiamo fare Vania più Vania. Perché non avremo mai 6 playpoint dopo aver giocato Vania. Cioè, giochiamo Vania anche a turno a 10, ce ne rimangono 4. Quindi Vania deve rimanere sul terreno. Ma quale giocata ci fa rimanere Vania sul terreno? Un drop a 5 che l'avversario non ha rimosso, cosa che non credo. Oppure turno 10 tiro Vania più tiro un drop a 4 pericoloso. Non credo ce ne siano. Oppure, boh, l'avversario non riesce comunque a tradarla e quindi lei rimane un turno lì. Vabbè, ma passiamo oltre, passiamo a questi due drop. Allora, sono entrambi i drop a 6 e entrambi sono delle 3 6. Entrambi con ostentazione fanno evocare un pipistrello di foresta. Ora vi faccio vedere le due versioni. Solo che una dà guardia al pipistrello di foresta e l'altra gli dà flagello. Quindi, una in poi a ruba vita e l'altra a tempesta. Quindi voi avete capito che Vania Regina Cortese è una carta più difensiva. Mentre Vania Regina del Sangue è una carta con tempesta che andrà a picchiare l'avversario. Secondo me, questa carta qua, quindi, ovvero la Vania originale, che è la principessa della notte, può essere giocata sia in mazzi control che in mazzi aggro. Ovvero, noi abbiamo bisogno di aggro, allora ci prendiamo la 3 6 con tempesta. Comunque è una 3 6 con tempesta che non fa schifo neanche ai mazzi control per far danni, capiamoci. Mentre invece vogliamo più giocare control, vogliamo curarci, allora tiriamo Vania Regina Cortese. Secondo me, però, ancora il costo non è giustificato. Cioè, se l'effetto di Vania, principessa della notte, ovvero quello che dice gioca la carta se almeno 6 play point, a costo 0, se vendetta attiva, se rimanesse questo effetto qua, chiaramente sarebbe sbroccatissima, perché vuol dire costo 0 in ogni caso, con noi che abbiamo meno di 10 di vita, abbiamo praticamente una 4 7, una 1 con guardia, cioè ovviamente la conto 4 7 perché ho avuto il bonus del pipistrello di foresta che è una 1 1. E abbiamo anche metodi per curarci, quindi assolutamente un avalio incredibile. Però, chiaramente, immagino che Vania debba essere sul terreno per attivare questo effetto qua. Vabbè, passiamo alla seconda, scusate se mi sono trattenuto tanto sull'eco della carta, però ha delle meccaniche talmente tanto specifiche che la rendono veramente molto interessante. Poi abbiamo Galua, soffio contrastante, questa a costo 5 è una 4 4, ci stanno le statistiche perché anche lui è un card draw, con ostentazione ci fa scegliere tra soffio nero e soffio bianco, una a costo 2 ci fa pescare due carte e l'altra a costo 4 distrugge un difensore o un amore tuo avversario. A seconda del matchup chiaramente ha, come dire, valore diverso, dipende anche da quanto siamo avanti con il game, cioè, se è late game, chiaramente non so quanto abbia senso pescare due carte. O magari ha senso, cioè, nel senso, noi abbiamo poche carte e quindi a costo 2 peschiamo due carte ed è OP. Però, credo che più che altro, il Dragon Craft, i turni finali, li giochi con molte carte in mano. Perché c'ha sempre quelle combo in mano. Questa mi piace molto a livello di artwork, pipistrello di voratenebre, sempre di sanguinari, come Vania. A costo 7 è una 5 5, quindi fa un po' cacare. La domanda è, chiaramente, se fossero i danni che noi abbiamo subito dall'inizio della partita, fino ad ora, chiaramente sarebbe sbroccata, non avrebbe senso di esistere. Nel caso in cui, invece, fossero solo i danni che ci siamo inflitti durante quel turno, la carta è scarsa. È inutile da dirlo. Per esempio, noi facciamo a costo 2 artiglio affilato più pipistrello di voratenebre, vuol dire facciamo 5 danni all'avversario e ce ne prendiamo 2. E abbiamo usato 9 di mana. Non è che abbia tanto senso. Non lo so. A un avversario vuol dire che possiamo anche utilizzarlo per traddare, ma le statistiche mi lasciano abbastanza perplesso. Fosse stato a costo 6 1 5 5, l'avrei già capito di più. Poi, oh, magari, veramente, come vi ho detto io, questa carta diventa da OTK, ma non credo, perché assolutamente infliggersi un danno ogni turno con Valpurga della Notte e poi tirare pipistrello di voratenebre per finire, sarebbe veramente troppo. Passiamo oltre. Pressione del Dragoniere. Draconiere. Infliggi un danno a tutti gli avversari. Sviluppo 5, infliggi invece 2 danni. Eh, una carta a costo 3 che infligge un danno a tutti gli avversari. Questo vuol dire che lo fa anche faccia ed è l'unica cosa che la rende, per certi aspetti, più forte della spell dei Necromanti che fa invece un danno e invece con Necromanzia 6 infligge 3 danni. Quella carta fortunatamente è ruotata via, non si giocava, io la utilizzavo perché mi piaceva veramente tanto l'idea di infliggere 3 danni a costo 3 a tutti gli avversari, tranne l'avversario in faccia. Così. Sviluppo 5, invece, infligge 2 danni. Chiaramente una carta del genere è un removal fantastico, inutile che ve lo dica, perché vuol dire traddo tutta la board, sei composta da minion piccoli e poi faccio anche 2 danni all'avversario a costo 5. Molto molto forte, secondo me. Però la vedo giocata in, cioè la vedrei giocata in Dragoncraft, non lo so, c'è da vedere un po' come si stabilizza il meta. Per esempio, nello scorso avrei detto che Diabolus Psema sarebbe stato giocato, invece nessuno l'ha, come dire, messo in un mazzo, non ci si poteva fare un deck attorno. Mentre invece Valpurga alla fine del meta di Cronogenesis è stata più o meno utilizzata. In combo soprattutto con il Jormungand di Star Forged Legend. Ora abbiamo invece una carta dei dimensionali, Dirk Braccia Poderose. Aggiungi un artefatto casuale che costa 3 o più dal tuo deck alla tua mano. E hai l'impeto. Aspetta. La carta chiaramente non la vedo giocata perché sono forti gli artefatti in Portalcraft? Soprattutto perché costano 1. Soprattutto quelli che noi vogliamo aggiungerci al deck non sono gli artefatti mistici, non sono gli artefatti radianti, ma sono gli artefatti, quelli là, 3-1 con impeto e i 2-1 con spirale e pesca una carta. Io appunto per questo, poi lasciamo perdere che a costo 5 è una 5-3, quindi ok va bene, ha impeto, ma vabbè tutto ha impeto nel Portalcraft, è inutile da dirlo. Però non lo vedo utile. Cioè fosse stato aggiungi un artefatto casuale, va bene anche a costo 1, a costo 2, ma non esistono artefatti a costo 2, che cosa sto dicendo? O se uno di quelli che vi ho elencato prima, comunque va bene, ma neanche troppo perché il suo costo è veramente troppo alto. Sì ok che fai trade, però turno 5 c'è Spinaria, non c'è lui. Non c'è proprio spazio per giocarlo. Poi chiaramente è uscito anche il trailer che vi andrete a vedere da soli, perché sì, vabbè questi sono i premi. Vabbè, il trailer vi consiglio di cercarlo perché è veramente molto interessante. Qui chiaramente spiegherà invece come funziona questa meccanica nuova che è l'abilità scegli. Infatti, questa abilità ti permette di scegliere una carta tra le due che vengono visualizzate. La carta scelta verrà poi aggiunta alla tua mano, evocata oppure giocata direttamente. Cambia a seconda del testo della carta. Ah, interessante. Quindi questo ci annuncia che ci saranno delle carte che la evocheranno direttamente. Ora, Vanya la gioca solo se almeno sai Playpoint. Ma in maniera che ci siano carte che le giochino a prescindere. Molto molto interessante questa cosa. Vabbè, che dire. Voi ditemi le vostre impressioni su questi annunci. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.